ciao ragazzuoli buongiorno ciao hunters come andiamo vediamo dove eravamo rimasti vediamo un po mi pare che avevamo già chiamato ok grazie per gli yen dobbiamo allora do buita a questo punto c'è la neve la neve no c'è la neve guarda pazzesco che faceva là dietro a lui abita la ok quindi lui abita la top abbiamo scoperto dove abita pazzesco c'è stato il colpo di con ok con zoni e poi c'è stata la lettera la lettera però abbiamo chiamato abbiamo visto dov'è ok amy ama ok vediamo se possiamo adesso sbloccare ovviamente l'autobus per amy ama sai a casta il quel canto mai c'è nel sayaka buongiorno quel canto mai c'è ancora dobbiamo chiedere informazioni ok allora iniziamo a chiedere informazioni iniziamo da lei san con si ma se non mi racconti qua saiaka san amy ama ciao amy ama minato vedi albolo no o do rio amy ama chiotte puri anni nato da io ma stei carai kelly arigato arigato usai ma abbiamo sbloccato il bus quanti tweet sushi allora si è sbloccata la fame a pranzo a pranzo sushi va bene sushi così lo inseriamo nel vlog che stiamo per realizzare il porto il porto il porto non l'abbiamo visto for your blog bellissimo ci sta ci sta il porto abbiamo sbloccato ma che bello prossima volta porto prossima volta giornata intera in catario orir sì prossima volta tutto il porto e tutta la zona dedicata a shemmo tutta ci prendiamo una casa lì ci prendiamo una stanzetta a yokosuka ci sarebbe bello svegliarsi sarebbe bello svegliarsi lì a dobuyita sarebbe pazzesco ora ora ahahah oh 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 Niente Non c'è Non c'è Non c'è Non c'è Non c'è Eh sì c'è una bella giornata l'ho capito Allora se scegliamo dei punti strategici Se mi dobbiamo mettere a camminare a vuoto no Non c'è Non c'è Itasani Omi Tsukako Hazuki Hazuki? Adesso cosa? Non c'è Non c'è Non c'è Non c'è Stavolta ti ho aiutato eh Che è successo? Ah Comunque con il pad di PS5 non è la stessa cosa del pad Dreamcast In pratica ricepisce meno i comandi Cioè ti devi proprio carcare Proprio forte Cioè Se sennò gli schiacci forte forte non Non prende il comando Forse perché il gioco è un gamemolato Non c'è Sì Ehm Che cosa? Cioè 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 Se lo fa Cerchiamo di fare anche Rio Rio Azuki All'epoca All'epoca L'avevano bloccato il fatto di poterli realizzare Perché c'era il coronavirus Può essere che adesso Te li fanno toccare Speriamo Così nel frattempo salutiamo Il nostro ex amico Di Gamestop Di Gamestop Sì 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 Mi somigli a qualcuno questo che dice Sì 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 Hello Honey Sì 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 quello blu dice ma io mi ricordo che andavamo qua dietro perché è qua che dobbiamo andare poi ma all'inizio no però all'inizio dobbiamo andare lì a chiedere informazioni ora prendiamo la bibbia da qua a chiedere informazioni fantastica mi ha fatto venire voglia di distributore però non me la ricordavo così la latina ha detto dobbiamo andare a quello blu ok andiamola vedo questo come corre pazzesco comunque nevi a proposito la c'è la nave di guerra la famosa nave che si vedeva lì nel porto è che si vedeva un po sisma se hai dai hatsu con i cittadini sga per nera e mi sei novento e tenere tegni animati hoku hoku bento no ura des ne hai Ah, è dove c'è quello che fa da mangiare Guarda che c'è qua Possiamo mettere la musica Ok Chiediamo a lei C'è loro già si conoscono C'è loro già si conoscono Eh Non abbiamo concluso niente Però possiamo ancora continuare Aspetta Andiamo Andiamo fino in fondo Andiamo a vedere dove è il posto fisicamente E poi ovviamente lui dovrà trovare la strategia Per arrivarci Non è che non è arrivato Non è che non è arrivato Non è che non è arrivato E' arrivato a vedere come questo rasgo Si è intrusolata all'interno Povero la laccia Mi immagino a Yusuzui che ha visto una scena del genere e la riprodotta nel gioco Sono convinto che lui l'ha vista una scena del genere Oh O Come è arrivato Oh Oh Ok O L'ho L'ho Mi raffreddi Ma anche se non c'è il caffè, non puoi uscire il caffè Per poco siamo senza ghen, altro che caffè Questo è quello che ha portato a quel bambino. , , , , , , , , . , , , . ci ha dato l'informazione ok dice che è da quel lato ci stanno facendo fare giro giro donna questo che portava questo è uno otto sei ok otto Noi, qui ci sono... Non ci sono anche dei conti. Non è vero. Mi sento. Mi sento? Qui ci sono? Noi. Non ci sono? Noi. Quindi... Qui ci sono? Non c'è chi? Non c'è nessuno. Non c'è nessuno. C'è nessuno. E ora? Si. Non si ricorda nessuno con il nome? E ora cosa facciamo? Mi sento? E ora? Vi andiamo dietro. C'è una sola porta Questo pezzo non me lo ricordo bene Mi ricordo che dobbiamo aspettare che fa buio Questo si Mi sa che dobbiamo parlare Di nuovo con il vecchio Vediamo a lei se ci dice qualcosa Lei non ci dice niente Andiamo di nuovo dal vecchietto In realtà l'abbiamo trovato Solo che non possiamo entrare perché ci vuole l'autorizzazione Che non avremmo mai Vecchietto nada Vecchietto qua Niente Il vecchietto si è fermato Vediamo che dice lui Il direttore si chiama Goro Dobbiamo cercare Goro Ma il direttore è quello che c'è qua dentro Oh mi ha fatto spaventare questo Guarda che non mi fa passare Nooo Ma qua dentro lui entrava Mi ricordo sta cosa Mi sa che non entrava qua dentro prima Siamo entrati senza permesso Siamo entrati senza permesso Siamo entrati senza permesso Ma questa qua che fa Boh Com'è entrata Assurdo Chissà che faceva là dietro Oh Dobbiamo provare a parlare con Con quello che si occupa di sta cosa Vediamo se è lui No Dice non boccettare In questo momento Ma sicuro che dobbiamo Parlare con loro Perché sennò come facciamo Questa è inutile Un momento Un momento Un momento Dice non è inutile Dice non è inutile Ma questo è quello che poi ci dà al lavoro forse E facciamo finta di entrare E facciamo finta di entrare Guarda Magari lui non lo sa che non può entrare Così lo facciamo sapere Vedi Non lo sapeva lui Deve trovare un altro modo per entrare Ecco Ops Renditi conto che se lui non scopriva sta cosa Della finestra A quest'ora Non potevamo fare niente Non lo sta vedendo nessuno però Non lo vede nessuno Saiyaka style Grazie per l'abbonamento Saiyaka Grazie mille Ventotto mesi di abbonamento Arigato Siamo entrati? Non lo so Non lo so Non lo so E poi è 28 mesi come quello di prima Ho cliccato io ma non abbiamo caricato Vabbè vuol dire che ti ha mandato lo stesso Vuol dire che c'è la notifica sballata Voi Voi Oh Cosa 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 Vabbè Cosa Cosa La posta era aperta ora è chiusa. Quindi non era questo. Era quello che dicevo io. Non c'è niente qua dentro. Ne nada. Ok. Dobbiamo andare nel vecchio distretto. Nella vecchia war house. Non c'è niente qua. Guardate chi c'era. Ok. Meglio di niente. Già ci ha detto dov'è. Ci ha indicato dov'è. Anche se ha indicato un po' oltre. Quello con il motorino stava cadendo nell'acqua. Ma guardate chi c'era di segnatrice. Ano... Ah... Chiuso coi che usano. Vecchia. Tom. Hai ilo. Tom. Hai. Chiuso coi che usano. Chiuso coi che usano. Tom. Chiuso coi che usano. S-S-Miss Fissaki Saka-San, soco no chica-cure, conno zutto la data. Ok, dobbiamo andare da Isaka. Eh... Bullet. Welcome to my channel. Chia Bullet. Isaka. Isaka-san. Ryo-kun. 旧 soco... 旧 soco... ...gono mi chinosaki. Ok, dici che è là? Ma non è questo, non credo. Oh... Katsuage-san. Ah, nandemo... Eh... Già. Chi ci manda a destra, chi ci manda a sinistra? Pazzesco. ... ... ... ... ... ... ... Scusate in quanto? Scusate. Perfetto, cosa? Il suo collo è un collo. Il suo collo è un collo. L'unico che non si può essere un collo. Non è vero? Ah, tu? Non sono stati non sono stati scopoli. Non si può andare L'ha capito che è questo? Io spero di sì Ok l'ha capito Dobbiamo aspettare che si fa notte E poi entrare di notte Ok Qua ci prendiamo un'altra bibita No non conviene Poi come torniamo senza autobus Non so se ci bastano poi per l'autobus Restiamo qua Allora non so se si può Se si può distruggere il gioco Ma dove è il vecchietto? Perché se si può distruggere il gioco Sicuramente è semplice Il fatto di non poter tornare a casa Perché sei senza yen Senza soldi C'è comunque il tomato qua vero? Mi ricordavo che c'era sto tomato Nascosto Me lo ricordavo anche peggio Sinceramente C'erano anche i giochi Ok E poi c'erano i gasha Pond Vediamo che gaccia Gaccia particolare Questi sono diversi da quelli Ce ne sono due in più Esclusive I premi sono sempre quelli Si i premi sono uguali Forse il 4 è diverso Invece come i cibi Che cosa hanno qua? Hanno solito le cassette Ok Le solite cose Questo qua non c'era Mi pare Questo tonno Questo infatti Non si può prendere Diciamo che su per giù Ci sono quasi le stesse cose Non cambia molto Bu Fabrizio di Ponzo TV Welcome to my channel Ciao Fabrizio Buongiorno Auguri di buon Natale Come stai? Tutto a posto? Qua non si può entrare Dobbiamo aspettare Che fa buio Se no non entra Questo ci ammazza Bene grazie Tutto bene Tutto bene Solito Allora da qua Non ci potevo andare Però da qua Si va a prendere L'autobus In pratica L'autobus arriva subito Ma tu ti metti Lì davanti Parte ovviamente Il trigger Per l'autobus Certo Ancora è presto Ancora prima che si fa buio In qua che c'era? L'ufficio? Qua non mi ricordo Che c'era Ah una caff... Ah la caffetteria Si Guarda che c'era sopra Pazzesco Undaruma La signora che vende Sì A queste cose C'è il prezzo Però ovviamente Non le prende Nel senso Sono generiche Queste ad esempio Non me le ricordavo Non so se c'erano prima Quello è il menu Qua c'è la mappa Comunque Ma non lo da Il vecchio distretto Nella mappa Perché non lo utilizzano più Diciamo Per le cose Normali Allora Certo Mo' valla a passare Il tempo Mi ricordo Che se guardavi L'acqua Per un dot Di minuti Ti veniva Tipo il mal di mare Che strano Ormai l'occhio è abituato Sa che è finta Però ai tempi Non è che c'era Qualcosa di meglio Quindi Ti dava Quell'impressione Tipo di Boh Tipo mal di mare La sensazione è strana E motion sickness Anche quello Questa che guarda Arriviamo fino in fondo Vediamo che c'è Tanto comunque Deve passare il tempo Quindi Guardi il tempo Non si può accelerare Qua no 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 Forse è nel 2 Che ti fa accelerare Il tempo Ti dice Vuoi aspettare Fino a E lui Tipo va avanti Il tempo E ancora è presto Per qua Siamo arrivati In antissimo Siamo arrivati Adesso si incazza Comunque quando siamo arrivati A Yokosuka E siamo arrivati ovviamente Al porto Era pazzesco Perché era molto Molto simile A quello che comunque Si vede qua In questo gioco E c'erano C'erano tutte queste navi Da guerra E c'era un sottomarino Particolare Un sottomarino Gigante Forse non avevo mai visto Uno in effetti Così vicino C'era un bot Si si Era un bot Era pazzesco C'è stata la cosa Molto caratteristica Che abbiamo visto Quando siamo arrivati Non mi chiede Perché non abbiamo visto Anche Volevo Ma Ma Dove 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 Ah Ryô Che cosa hai fatto? Ma è che ha fatto un amico con un amico amico. Non avevo un amico così. E' proprio? Eh, non puoi anche andare a Ryo a Ryo? Non mi non mi ha mai parlato. Mi ha detto? Si, ma che ha già conosciuto il tuo figlio. Perchè, ti chiedi? Ok, dobbiamo andare da lei? Vediamo se riesco a farvi vedere la foto Anche se non è che si capisce tanto Non so se si riesce a capire No, non si capisce No, vabbè, poi ve la farò vedere Comunque Andiamo verso di là Vediamo che c'è sta ragazza Che dobbiamo risolvere il problema Vediamo che vuole Che gli ha rubato soprattutto Statizia Ecco, dove putiamo andare Per forza lì Maichan 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 Neesanが心配してる Cairo Maichan Queste sono quelle dell'angolo che ho buito Dove c'è il barbiere mi fa Ci siamo? Le abbiamo suonate Però in effetti Non le abbiamo neanche toccate Neanche sfiorate Sono ingiampate da soli Ok Ci siamo? Mi sa che Però ha detto Dobbiamo aspettare Che fa notte Non so se Se a quest'ora Già si sono spostati Però possiamo fare la prova Mi pare che forse Bastava fare buio Cioè Semplicemente Per spostarsi Certo il fatto comunque Di sfostarti a piedi Un open world del genere Da punto a punto All'epoca non c'era niente di simile Di simile Quindi Solamente già questa cosa Ti generava comunque una voglia Una curiosità Di scoprire Tutte le aree Di Stare lì ore e ore A A cercare Poi cercare niente Perché non è che c'era Chissà che Però Ok Forse forse Ci siamo Se cadeva a terra Ci beccavano Poi dovevamo aspettare Un altro giorno Attenzione ci sono le guardie Oh Metal Gear Le guardie ci sono Ok Queste 1 Queste 2 Ci stiamo facendo scoprire Fra poco Queste 5 Ci sono Cosa? 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 Cosa cosa faccio? Ok, puoi prendere l'argento. Non è l'aiuto, non lo farò. Allora comunque dovrebbe essere lì in fondo E poi a destra Quindi aspettiamo che questi qua si spostano Questo è il 9 Poi non cammina Si blocca divo Quando c'è un muro Si ferma lì Nooo Si è aperta la porta Cazzarona Non è possibile Non è possibile Sì Allora intanto abbiamo capito che dobbiamo andare di là 100% Ok Ora si blocca Ecco Ci mette due ore per aprire la porta Se vai dritto in realtà ci arrivi Cioè a livello di timing ci arrivi Nooo Dai dai Zugenda Qua c'è il campione Campione in carica Mh 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 C'è il maestro Jin Taijin Jin Taijin Jin Taijin C'è il maestro Zhen Maestro Qin Tu sei che il tuo ragazzo che ha fatto? Sì, è Ryo. In questo posto, se c'è il caso di chintai di aiuto a chintai di aiuto. Sì, se potete riconoscereci? Sì. Non è vero che il nostro capitolo. Ma sembra che la lettera di scrivere è lungo. Sì, ma che riguarda il suo figlio di Shugentats? Il suo figlio di Shugentats ha detto che il suo figlio di Shugentats ha avuto un luogo in Italia. Il luogo in Italia? Il suo figlio? Il suo figlio in Italia? Sì, il suo figlio di un figlio di Lante. Lante. Scusatevi, papà! Papà? Scusatevi. Scusatevi, è un figlio di me. Ma... ma... La scuola è una scuola? Eh? La scuola è una scuola. Si. La scuola è una scuola. La scuola è una scuola. La scuola è una scuola. Oh! La scuola è una scuola di chiunque, la scuola di vita. La scuola è una scuola? La scuola è una scuola. La scuola è la scuola. Entendete. Vi saluto. In questo modo, vi ringrazio per l'applicazione. Non lo so, non lo so. La scuola è una scuola. E i mirror sono due. Ne hanno rubato uno solo. E il secondo dovrebbe essere nascosto bene, ovviamente, da noi, a casa. E quindi dobbiamo trovarlo. Quando lo troviamo, dobbiamo chiamare maestro Chen, dare la password al solido, e sicuramente si creerà un incontro tra loro. Allora, andiamo a cercarlo. Dobbiamo trovare la stanza del padre, che se no mi sbaglio, è tutta dall'altro lato. Ecco. Eccolo. Dove è la chiave? Che cosa? Questa chiave è? Ok. Abbiamo trovato la chiave. Non potrebbe usare qualcosa. Ok. Ma se no mi sbaglio, c'era ancora qualche altra cosa. Può essere di nuovo, perché questa è quella che apre. Accendiamo la luce. no. Non la legge. Io mi ricordavo che la leggevo. No, lui giustamente guarda dietro le cose perché in realtà puoi trovare cose, no? Però se sbagli, in pratica rifai la stessa cosa più volte e diventi pazzo Ok, qua che c'era? Niente Ok, vediamo? Questa si può aprire, sì? Ecco Abbiamo trovato una tecnica che era nascosta ovviamente in casa E in casa ce ne sono tante cose nascoste Questa che è? La stanza di... Ah, ok La stanza cerimoniale Pim E noi super giuro sappiamo dov'è Però ora ci arriviamo Con calma Mi direi di prima di controllare tutto E poi ci si avvia la ricerca Ecco Candela Anche se abbiamo la torcia comunque Però forse ci servono le candele Quindi è giusto che le abbiamo prese E' tutto collegato Cioè Niente è lasciato al caso Infatti già quando ti fa prendere le candele E i fiammiferi Già ti rendi conto di A cosa ti serviranno Già un po' Ti proietti Ecco qua, siamo nel bagno E poi mi pare che era una turca Voglio andare nella stanza di Fuxan Mi pare che è quasi Infatti lui ha i poster di Virtua Fighter Che si è Pi Quello è il suo porcellino Dove raccoglie i soldi Qua c'è un'altra tecnica Ok Queste adesso le impariamo subito Spera che poi Ci dimentichiamo Ok Ok Mi pare che sono queste due Quindi ce ne mancano 5 Intanto salviamo Facciamo un salvataggio Salvataggio pulito Chiamasi pulito Un salvataggio che non si sopra scrive Quindi unico Ok vediamo che c'è qua dentro Niente Ok Vabbè Possiamo uscire Di là non c'è niente no Ma meglio controllare Magari c'è qualcosa che non abbiamo visto Welcome to my channel Sleeping Welcome Batterie Anche questa per la torcia O per le radio O queste forse sono proprio quelle della torcia Che era qualcosa Non lo prende Non lo prende Quindi dobbiamo trovare il gioco Però ci abbiamo il gioco Possiamo giocare Visto La Saturn All'epoca questa cosa Mi faceva impazzire Perché magari non avevi la console a casa Però nel gioco Ce la avevi Cerchiamo tutti i cassetti Vediamo un po' Stiamo ravvistando una casa intera Anche se già sappiamo Cosa ci serve Però Magari esce qualcos'altro Può succedere Che esce qualcos'altro Tutto è possibile In scemo Allora ci sono le scarpe Cerimoniali Vabbè Allora che c'è Ok Questi sono le cose sue Penso di lei Ok E là dentro che c'è Niente Va bene Usciamo nella prima stanza Ok Ci prendiamo i soldi Ma nel gioco Quando ne abbiamo 14? Ci stiamo avvicinando A Natale nel gioco No no Forse ho sbagliato Ah Siamo andati Andando buita Vabbè Torniamo indietro Anche perché a casa Dobbiamo cercare Non fuori C'è qualcosa Ecco Sì Bella questa scena Gli è sempre piaciuta E lui ci mette alla prova Lui ci metto Lui è il nostro bodyguard Guarda del corpo Bodyguard Guarda del corpo Eccolo Come ci osserva? Però è strano perché non ce l'abbiamo ancora Quindi comunque la scena è partita lo stesso Anche se noi il Fenix non ce l'abbiamo Però lui ha preso informazioni Ed è ovviamente ora sicuro che ce l'abbiamo noi Quindi Pazienza Va bene, continuiamo al prossimo video E vediamo di scoprire dove si nasconde Questo mirror Della Fenix Al prossimo video Ciao belli, commentate e iscrivetevi al canale Mi raccomando Ciao ragazzuoli Ciao Hunters Ciao a tutti Ciao a tutti